Fabio, grande esordio per noi in Champions League, una competizione a cui teniamo, nessuno si nasconde, esordio che era difficile contro un avversario di ranko come Trento, abbiamo giocato molto bene in fase break, toccato tantissimo muro, bene in contraattacco, una grande squadra. Sì, hai detto bene te, era importante partire bene, sia perché oggi iniziava la Champions ma anche perché ci stiamo allenando duro in palestra e è sempre un buon test a giocare contro squadre così forti, quindi era importante vincere per la Champions ma anche per noi. Questa sulla carta, naturalmente solo sulla carta, è l'avversario più difficile del girone, chiaramente adesso restando alla Champions molto velocemente l'obiettivo è non abbassare assolutamente la guardia. Ma carta non carta, sono tutte partite a giocare perché è la Champions, tutti vogliono far bene, tutti vogliono provare ad andare avanti, quindi ogni partita va affrontata con le pinze. Bene, grazie Fabio.